Il luogo dove gli schiavi si riunivano nell'unico momento a loro concesso di libertà durante la settimana, cioè la domenica pomeriggia. Ma Aya Jackson era una donna di fede, era una donna profondamente credente. Grande amica di Martin Luther King e grande palladina nella lotta dei diritti civili. E questa è Salvation is Free, che la dedichiamo a voi come augurio di buona vita. Perché la salvezza è l'unica cosa che non si può comprare. Grazie a tutti! Grazie! 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 Come on, Venus! Come on, Venus! Come on, Venus! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti